L'avrebbe raggiunta in bagno per poi baciarla e palpeggiarla contro la sua volontà. Lei, 12 anni, viterbese, in vacanza in un villaggio in località Alimini, a Otranto, insieme ai genitori. Lui, 24 anni, milanese, barman e animatore all'interno di quell'isola felice. Le presunte molestie, confluite in una denuncia sporta ad ottobre dalla madre della minore, risalirebbero ad agosto dello scorso anno. Più nel dettaglio, alla serata del 26, una delle tante animate da musica e balli all'aperto. Mercoledì pomeriggio, nel corso dell'incidente probatorio, davanti alla giudice Silvia Saracino, la 12enne ha confermato la ricostruzione già illustrata in sede di denuncia, la stessa che ha spinto la procura di Lecce ad approfondire la vicenda. Secondo la versione della minorenne, a fine serata l'animatore sotto accusa l'avrebbe convinta di appartarsi con lui, raggiungendo il bagno. Qui l'avrebbe poi baciata contro la sua volontà e palpeggiata. Il 24enne è accusato di violenza sessuale, aggravata dall'età della persona offesa. A difenderlo è l'avvocato Massimo Pagliaro. Certo di poter dimostrare la sua innocenza, il giovane ha sempre riferito di non essere mai rimasto solo con la ragazza e di non avere mai avuto alcun approccio ravvicinato con la stessa.